Questa sera la Petitroube dedica una serata a Lucio Fontana, di cosa si tratta? Sarà una serata in un posto bellissimo che è questo, io ho scelto questo luogo perché lo trovo uno dei luoghi più belli di Milano dove mi viene voglia di avere sempre le ali che vorrei avere comunque tutti i giorni, ma qua ancora di più. Questa serata, siccome lo spazialismo parla di forme, di colore, di suoni e di movimento, allora i miei vestiti si sono allungati in un movimento, in una morbidezza, in un colore, credo abbastanza forte. Ecco, con il suo marchio proprio a Milano c'è un progetto retail. Sì, c'è un progetto retail che spero di realizzare. Noi tra un mese dovremmo aver pronto, se non altro, quello che dovrebbe essere il nostro console store e da lì vorremmo partire nell'aprire il nostro primo negozio su Milano, essere pronti almeno per l'Expo. Parliamo di numeri, come è andato il brand nel 2013 e qual è la previsione per quest'anno? Il brand nel 2013 ha fatto 6 milioni, quest'anno sicuramente ne facciamo 8. Abbiamo una bidà, si dice così, molto alto, che quindi ci rende anche molto forti, un 35%. Noi continuiamo a crescere di anno in anno abbastanza bene. La prossima tappa, Stati Uniti? La prossima tappa è la prossima collezione e farla vedere a New York. Non so in quale modo, se in una sfilata. La sfilata la riservo per l'anno prossimo a Milano di questa stagione. Sarà una grande sfilata nel calendario. Noi, non so in quale modo, non so in quale modo, non so in quale modo.